scherza scherza scherziamo facciamo gli sketch del cazzo intanto quelli cicciulano tutto ridi tu stanno creando tutte queste cose il var il va e intanto di loro silenzio le loro porcherie al var silenzio ridi ridi e vedi come ti inculano questi qua che ti fanno vincere lo scudetto a te come sei bello anche se sei forte con quel calcio assurdo ridi 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 te ridi ridi e noi interissime siamo a massima tanto noi siamo più forti aspetta tu e ancora ancora ridi ridi ormai ormai abbiamo capito ma abbiamo capito montano le cose solo solo per distoglierti mentalmente adesso hanno riniziato con zanga a rompere il cazzo solo per distrarti mentre gli altri fanno quello che cazzo vogliono fanno box fanno tutto il var zitti i giornali non ne parlano anzi grandissimo max allegri hai capito ridi ridi che ti stanno preparando un ridi ridi a voglia di vincere le partite 4 a 0 tu interisti a voglia di vincerle a voglia a voglia 80 partite a cortomuso con dei falli assurdi ma non ne parliamo mai capito ridi 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 che dopo vedrai tu vedrai tu è come la prima repubblica non cambierà mai fin quando che ci sono di mezzo loro non cambierà mai mai lasciamoli giocare soli vaffanculo ridi 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 tu ridi hai capito ridi giocano di martedì scusami scusami falli giocare il giovedì prossimo e quell'altro turno glielo fai giocare giovedì prossimo scala di di una partita con questi qua no scalane di una no scalane di una a questo punto ridi ridi vedrai cosa ci stanno preparando questi qua a voglia di gridare poi vedrai te non hanno mai smesso di rubare mai mai e poi siamo noi la marotta league e fanno anche le vittime cioè sai cos'è quello che mi incazzo io e che fanno le vittime cioè sono tanto attori capaci di fare le vittime hai capito due volte radiato due volte radiato vaffanculo